I segreti del loro workout Victoria's Secret Angels, i segreti del loro workout Da Adriana Lima a Gracia Carvalho, fino a Martha Hunt, le modelle che scendono in passerella per Victoria's Secret del fitness non possono fare a meno. . È necessario, per indossare quei completi intimi ridotti ai minimi termini, avere un fisico perfetto. Scolpito, asciutto, senza un filo di grasso. E, i loro workout a favore di social, sono lì a testimoniarlo. . . In due è meglio. Tra tutte le modelle che sfilano per Victoria's Secret, ce ne sono due del fitness paiono essere delle vere guru. Loro sono Yasmin e Tohokess e Josephine Skriver, e spesso si allenano insieme. . . Lo fanno postando tutto video e foto sui loro profili social, per la gioia dei fan che le seguono e per l'invidia del pubblico femminile. Dallo yoga allo stretching, dalla kicklet agli allenamenti in palestra coi pesi, le due sono delle vere esperte. . . E, per mostrare al mondo i loro workout, hanno addirittura creato un account Instagram congiunto, Gioia. Qui, postanno in continuazione immagini e video che le ritraggono in abbigliamento sportivo, tra esercizi semplici e figure acrobatiche. . . Nella palestra che frequentano a New York, Yasmin e Tohokess e Josephine Skriver si dedicano al potenziamento dei loro muscoli. . In un video, la Tohokess e ritratta mentre, seduta a pancia in giù su di un cubo con le caviglie legate da uno stretto elastico, solleva le gambe aprendole e chiudendole. Andando così ad allenare cosce, glutei e polpacci. . È un ottimo esercizio che puoi fare ovunque, basta avere a disposizione una fascia elastica. Assicuratevi di strizzare il sedere ogni volta che sollevate le gambe, e ripetete 15 volte per 3 serie. Perché è proprio il sedere, a beneficiarne. . È lesercizio giusto per chi vuole scolpire il proprio lato B, ma è consigliato anche ai runner e ai ciclisti, perché si allena molto il gluteo medio, uno tra i muscoli più deboli ma fondamentale per prevenire infortuni e per migliorare le proprie performance nella corsa e nella pedalata, conferma la personal trainer Alison Tibbs. . . Per le braccia, le due Victoria's Secret Angels sollevano invece due piccoli pesetti. È uno dei miei esercizi preferiti, lavorano anche gli addominali. Trovare lequilibrio non è semplicissimo, ma è una di quelle sfide che tanto ci piacciono. . 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